No, non dite cazzate, raga Eh no, 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 fermi tutti Fermi un attimino tutti quanti Fermi un secondo È uscito il trailer Fermi tutti Siamo matti, siamo matti, siamo matti, siamo matti, cazzo Guarda la grafica Scema, guardate quanto è pieno l'ambiente, raga Raga, ma che grafica c'è? Sembra un film, sembra un film Sembra un film Raga Comunque erano veri i leak, era tutto Quei cazzo di leak erano tutti veri Ci sono quei due protagonisti là, è tutto vero No, raga, è impressionante, giuro Cioè, ma Ma guardate il livello di Dettaglio nella mappa, raga È impressionante Guardate quanto è vivo l'ambiente Quanto è vivo, quanti NPC che girano Gli alberi È incredibile È vivo, è un ambiente vivo, cazzo È un ambiente vivo Guarda qua Guarda qua Guardate la spiaggia Incredibile, giuro Sembra realtà, letteralmente No, giuro, è allucinante Vai City Cioè, guardate qua Questo frame qua Ditemi che non sembra un film sta roba, raga Guardate le luci Ma questa roba del coccodrillo Si è vista più volte, eh Più volte si è visto questo coccodrillo Che gira Quanto, quanto Gli è girato il cazzo Che hanno leakato il trailer Su Twitter Come stavate dicendo Cioè, da quanto Dopo quanti minuti Dieci minuti Hanno droppato il trailer Per non far sinculare Logicamente lo spoiler Cioè, ma li stiamo guardando Questi frame qua Cioè E sappiamo per certo, raga E lo sappiamo per certo Che i trailer della Rockstar Non sono scam Cioè, quello che vedi qua È quello che poi vedi in gioco Che non vedi una roba diversa Cioè, la grafica è questa Non scammano Anche quello di GTA V Era fedele Cioè, raga Guardate quanti Quante persone Quanti NPC ci sono Che arricchiscono l'ambiente E raga, giuro È incredibile Stiamo vedendo Questo ambiente Sì, comunque Secondo me In questo trailer Va analizzato Questa è una diretta Instagram Questo secondo me E sono tutti i spoiler del gioco Ci saranno sicuramente Ste roba, regola Ma voi vi immaginate Se in prima persona Il gioco si vede così Cioè, tutti i giri Prima per Cioè, prima persona Giri la visuale E il dettaglio del personaggio È questo, raga Io il like l'avo Ma come? Ma io l'avevo già messo il like Alla prima Alla no Fatti like al video Raga C'è un modo per vedere Le visualizzazioni reali Perché ne avrà Cioè, io voglio sapere Le views di questo video In 8 minuti Secondo me c'è 10 milioni di views In 8 minuti In questo video No, raga Però 2025 Raga 2025 no, però 2025 no, però Raga Raga Ma l'avete visto il trailer? Ma è follia, brother Ho i brividi, te lo giuro Ma hai visto la cura La cura dei dettagli Ma bro È incredibile, giuro Io ho tutto Animazioni dei giocatori Sguardi Cioè Veramente Follia Follia Minchia E hanno fatto vedere Un botto di quei personaggi bizzarri Deve essere pieno di stronzate Robe assurde E comunque è una roba assurda Secondo me anche proprio Tutta la differenza Che ci sarà Tra un posto e l'altro Non so come dire Cioè, si sono visti Tanti punti diversi Biomi diversi Biomi diversi Guarda qua Guarda qua Il jet Elicottero Qui Questo è quello che parcheggia in acqua L'elicottero che parcheggia in acqua Se te lo spulci nei dettagli Zio Trovi tante di quelle robe Ma guarda i locali Quanto sono pieni bro C'è questo cazzo di cocodrillo Che si vede in più frame Deve essere roba della storia Secondo me invece Sarà qualcosa Tipo legata a qualche quest Sì Ci sono delle robe Secondo me Regà Tipo Queste telecamere Secondo me saranno robe Che si potranno usare in gioco E questa Questa gopro Questa bodycam Anche questa Secondo me sono robe Che ci saranno in gioco Le dirette Sembrano troppo Troppo reali personaggi È allucinante Cioè Sembrano persone reali E stavo dicendo prima Che la grafica dei trailer Solitamente è uguale a quella del gioco Non la abbassano loro Cioè è quella Sì Non sono scami trailer Come faccio Andare a giocare su GTA Ragazzi GTA 5 Come faccio Entrare a giocare su GTA 5 Perché avevano Lickato il trailer Bro Stava girando su Twitter Anche per i 5 Ne sono usciti Mille di trailer Di trailer 200.000 like In questo momento Guarda 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 Tipo il fango bro Cioè guarda La fanghia Come minchia è fatta bro Cioè Guarda questo frame qua Ripeto Questi sono immagini Di gioco all'avviene Si saranno sicuramente Cinematiche Di qualche missione Qualcosa Ma è la mappa Cioè guarda La fanghia Di Obono Come cazzo è reale Con tutta la merda dentro Lickato tempo fa È vera Collega poi Ma sono veri Anche i leak Dei due personaggi Quelli di 2017 Sono questi i personaggi Bro Aspetta 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 Qua che ho visto Delle scritte Vice Vinny Vice Vinny Vinil Vice Vinil Vrap Crosstown Cita Sì 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 Non hanno i diritti Però brutte zio Io voglio vedere Io voglio vedere La fisica delle auto Quando si incidentano Deve essere incredibile Bro Deve essere incredibile Ma guarda quanto è grande La mappa C'è questo frame Dall'alto Quello a 36 secondi C'è un frame A caso Di un ponte Mastodontico Quello è il ponte Che collega la città A quello che Dicevo Da cui si capisce Che O i sasi Da cui si capisce Che Della mappa Sono veri Metti Metti la bodycam Forse ce l'ha data D'uscita del gioco Aspetta un secondo Che minutaggio è? 49 secondi 08 04 Questo? Eh boh Chissà 08 04 08 06 A 49 secondi Hai detto Sasi Sarebbe Solitamente Agosto 4 agosto Perché loro Hanno il contrario O è al contrario O è Gennaro Ma Non penso Esca ad agosto Sì zio Ma c'è roba ovunque Dando me Uscirà sempre Sì Settembre Ottobre Come è sempre uscito 2025 Un gioco per Natale Sicuramente Questo qua sembra 2017 Anch'io Anch'io mi aspettavo 2024 Non mi aspettavo Il 25 ore Sono rimasto male Ma quanto cazzo Deve essere Mastodontico Un gioco del genere Per addirittura Dopo tutti questi anni Lo annunciano Tra due anni Cioè che cazzo c'è dentro Ci deve essere di tutto Raga Cioè deve essere Non è solo questione Di grafica Cioè deve esserci Di tutto dentro Allora Il 5 era uscito A settembre Inizio settembre Giusto? Sì 2013 Zio si Uscirà a quel periodo Secondo me Dai minchia Per un anno e mezzo Gli altri videogame Ci hanno un po' di margine Di vendita Per un anno e mezzo Dopodiché E infatti vorrei vedere Quanti views ha Perché secondo me Ne ha troppe bro In 16 minuti Io sono allibito Dal numero di NPC Che ci sono comunque Cioè Voglio vedere un attimo Il primo trailer Di GTA 5 Voglio rivedermi Meglio l'ero che corre A fianco alle persone Tutti qui in spiaggia Tutti ammassati Con sto culone qua Tondo tondo Guarda qua Divertiranno poco Le tipe di 5M A farsi Minchia raga Guardate il trailer Raga Guardate il trailer Di GTA 5 Il primo Cosa? Guarda la differenza No e non fa testo Dario Perché è fatto Sul motore grafico Di GTA 5 No no Però dico Guarda la differenza Dieci anni fa Questo qua Giuro che io Quando vedo questa Di GTA 5 Io con i brividi Con sta musione A confronto Sembrano una merda Veramente Quattro nei PC Del cazzo Che camminano Guarda Torniamo nell'altro Giuro C'è il vero Aspetta Aspetta Cos'è questa scritta qua? C'è una scritta 9 919 Why 69 When you can 9 A 9 Why 69 When you can 919 All'inizio Zio Al 017 C'è un aereo Che passa In un frame Velocissimo Zio Tutte queste cose Non sono Mai random Ok Mai Mai E un trailer E un trailer Letteralmente Potrebbe essere 9 settembre Cioè Trailer sarà studiato Al dettaglio Letteralmente 9 settembre Potrebbe essere No aspetta Why 69 Perché 69 Quando puoi 919 Quando puoi 919 L'1 settembre Sì sarebbe Mi dico in certo Quella settembre potrebbe essere Tipo Perché scopare Quando esce il gioco Della serie Perché dovresti scopare Se esce il gioco Tipo una roba del genere È bravo Mentre mi è crashata la live Regolare ormai Madonna Che spettacolo Dura un istante Non può essere un caso Perché dura un frame Di merda E si vede pochissimo Ed è perfetta La scritta Proprio ti passa davanti Mi chiamo giuro Lo guardo frame per frame Questa merda Devo scopare ogni roba Dopo gli enigmi su header Possiamo combattere tutto Guarda qua la prigione Sì Vabbè quindi palesemente Zio Protagonisti Questi due ragazzi Fidanzati Lei escarcerata Eh ci iniziano a fare le rapine Vabbè Sarà questa la trama Del gioco Qui è vero Il protagonista C'ha i tratterini Nico Bellic o sbaglio Ma a me sembrano Tutti sudamericani Infatti pure il tratto Mi sembra molto Il mix tra Nico Bellic E Michael Di GTA 5 Guarda quell'alligatore Del Zio comunque Posso dire che sta roba Della palude Con gli alligatori Secondo me sarà un botto Alla Red Dead Ci sono le Everglades Probabilmente Quindi ci saranno I alligatori Zio secondo me È un botto Alla Red Dead Secondo me li puoi cacciare Ovviamente Tutte ste robe Sicuro Potrei fare il cacciatore Magari andarli a prendere Vendere poi la pelle Ste robe qua Lo sbaglio E'a la pelle